Guarda quei due, già. Hanno un qualcosa. Sono meravigliosi i nostri figli. Hanno una sorta di aura misteriosa, non trovi? Ti ricordi quando tu avevi le tette e io no? Voglio sapere tutto sulle tue tette. Guarda la faccia di tuo figlio. La notte scorsa sono andato in cucina e ho visto mia madre che usciva dalla camera dove dorme lui. È impossibile! Tom! Che stai facendo? Ehi, dove sei stato? Da Lilla. A fare con lei quello che Ian ha fatto con te. Abbiamo superato il limite. Non dovrà più succedere. No, mai più. Tutta questa storia è inaccettabile. Io la amo. Allora, brindiamo le nostre madri. Sì, grazie tesoro. Allora, brindiamo le nostre madri. Grazie a tutti